Ebbene sì, sono a Carugate, Apple Store, perché mi è arrivata una soffiata, ci sono i 7 Plus Jet Black 256 E allora da buon malato cosa fai? Corri a comprarlo Ma lo faccio per voi, lo faccio solo per voi Io non l'avrei mai comprato Io sto così bene col mio 7 E ovviamente con l'ecosistema di telefoni che sto provando E in questo momento Meizu Max, camera posteriore, 1080p 30fps Beh comunque girare un demo video del Meizu dall'Apple Store, top Mega cazziatone all'Apple Store perché non si possono fare video dentro l'Apple Store Ma io gli ho mollato 1159€, cavolo potevano anche chiudere un occhio E qua valutiamo la stabilizzazione anteriore Ragazzi sta per scattare il dramma, ovvero non mi ricordo assolutamente dove ho parcheggiato la macchina Mi perdo nei sotterranei del carosello Vabbè dai colgo l'occasione per valutare la stabilizzazione e la ripresa con pochissima luce Non è qua sotto le applicazioni che mi rilevano la posizione del GPS e non funzionano sotto la soletta Dai ce la posso fare, è una 108, aiutatemi Se la vedete Vai che l'ho trovata, adesso la 108 mi sta portando al volo in ufficio Cavalcavia, che buio Mancava la macro, rimedio subito E ora bici, si corre studio Ovviamente a spacchettare l'iPhone Ciao Ciao